Vincenzo Narato Tu sai perché sei un velista che non sono importanti soltanto le caratteristiche tecniche perché qui tutti i velisti sono ad altissimo livello ma soprattutto riuscire a creare quel blend umano, quel blend di caratteri, di personalità che consente a delle ottime individualità di diventare un team. Quando delle ottime individualità diventano un team poi rischiano fortunatamente di vincere. La prossima Coppa America avrà qualcosa di diverso, una chiave diversa per vincere da quello che è stato in passato, secondo la tua opinione? Il lavoro che stiamo facendo Russell ed io è quello di creare delle regole assolutamente oneste e quindi questo automaticamente dà più possibilità a tutti i team di vincere. In più l'organizzazione delle regate, i giudici eccetera sarà qualcosa che non apparterrà né al defender né al challenger per cui l'imparzialità è garantita. La Maddalena può sperare di avere un evento prima della Coppa? Guarda, io mi piace sempre parlare con i fatti, non con le speranze. È chiaro che il mio lavoro come challenger of record, la parte più consistente è quella di cercare di portare, di lottare per portare quanti più eventi possibili in Italia, non solo alla Maddalena. Questo posto, questo porto ha un futuro, quali prospettive ci sono per l'isola della Maddalena con questa nuova struttura? Io continuo a dire di guardarsi intorno, questo sarà il primo porto turistico per qualità e dimensioni del nord Sardegna, che è una realtà ormai in evidenza, per cui avrà certamente un grandissimo futuro, un futuro che deve ancora essere espresso e crescerà. Quanti posti barca sono previsti? 700 e tutti al top. Possiamo dire che siccome le statistiche danno un posto di lavoro ogni quattro posti barca, qui ci saranno almeno 150 lavoratori impiegati? Credo molto alla tua statistica, è così, certamente 700 imbarcazioni creano non solo occupazione diretta ma anche un indotto notevolissimo.